ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi andremo a fare un giant fluffy slime e quest'oggi metterò un bel po di colla cioè quasi finirla diciamo poi ho comprato una schiuma da barba figaro e vabbè poi ho l'acido borico e due colori verde e azzurro perché voglio provare a fare il verde acqua allora possiamo iniziare a mettere la colla andiamo a mettere la nostra colla madora regà ne verrà un sacco di slime tantissimo in testa colla mamma mia è tantissimo beh direi che basta ok allora con tutta questa colla che è veramente molta andiamo ad aggiungere la nostra fantastica schiuma da barba ecco ci ho tolto il pre prezzo quindi la nostra schiuma da barba andiamo ad agitare vediamo come funzionerà la figaro mamma mia ho bella questa anche se l'ho spruzzata tipo metà schiuma da barba fuori dal contenitore è bellissimo questa comunque guardate quanto verrà fluffy ve lo immaginerete immaginate io sì oddio più fluffy è il più fluffy slime che abbiamo mai fatto ok ragazzi adesso che abbiamo mescolato andiamo ad aggiungere i nostri due coloranti mettiamo prima un bel po di blu anzi mettiamo un bel po di blu perché è enorme e un altro bel po di verde vediamo intanto come viene mescolato così ok ragazzi adesso che ho preso questa specie di colore verde acqua anche se della telecamera sembra più brutto più verde ma vedete che è verde acqua andiamo ad aggiungere finalmente il nostro slime gigante lo aggiungeremo ovviamente con l'acido borico e speriamo ovviamente che si si addensi tutto sto slime oddio ricacquotati che bello stupendo poi vi do un consiglio se non vi si addensa molto bene a me invece sta addensando benissimo però se non vi si addensa molto bene mettete un po stavo dicendo mettete un po di acido borico e un po di schiuma da barba quindi che sono questi due fattori che fanno reazione quindi fa fate così e questo così se non vi si addensa così avete sbagliato qualcosa nello slime perché è impossibile che con l'acido borico così non si addensi guardate adesso come sta diventando il mio sta diventando veramente super 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 fluffy è uno slime veramente gigante non so se si vedono bene le proporzioni ma è enorme ok ragazzi adesso direi di andare a mescolare con le nostre carie mani carissime mani ok ci vediamo fra un po quando ho smesso di appiccichermi tutto ok eccoci qui sono passate circa 3 4 ore e niente possiamo iniziare a mescolare con le mani aggiungiamo un po decido borico e mescoliamo mamma mia ragazzi è gigante cioè enorme è veramente gigantesco ed è su ed è super 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 fluffy veramente ragazzi stiamo stiamo usando un bel po di materiale perché fra acido borico colla e schiuma da barba mazza qua è una strage come vedete si sta addensando molto bene piano piano si addensa perché ci vuole un bel po per addensare lo slime così grande quindi prendiamo la schiuma da barba però apriti e ne versiamo un po sulle nostre mani anche ok giusto un velo sopra e con questa aggiungiamo anche un po di acido borico e vedete come si addensa molto meglio e diventa meno appiccifoso quindi magari lo spargete anche su tutta la superficie e iniziate a mescolare come prima magari oh madonna in amore ragazzi ora lo devo ribaltare guardate ecco girarlo magari così si addensa meno di tutte le parti dello slime quindi addensiamo mettiamone anche un po sotto da tutte le parti almeno anche sotto perché se non ci addensirà mai non so quanti chili sono o uno o due circa ma veramente gigante come vedete è super 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 fatica vabbè ora questa parte ragazzi la velocizzo perché veramente ci metterò un bel po ok ragazzi a questo punto sono passati circa 3-4 minuti e abbiamo finito ad addensare il nostro slime e quindi adesso è il momento di tirarlo fuori ok quindi lo tiriamo fuori stanno ovviamente anche un po attenti e poi lo maneggiamo con schiume da barba e anche acido borico da fuori perché le parti appunto sotto magari non sono ancora perfettamente addensate ma invece meglio di quanto mi aspettate ragazzi guardate ecco questo è il risultato del nostro slime ragazzi è fantastico fantastico proprio non avete idea quanto scoppietta sentite è uno slime bellissimo quindi per renderlo ancora più fluffy ma ancora è un'extra circa aggiungiamo altra schiuma da barba abbiamo finito quasi la nostra schiuma da barba figaro quindi solo per farvi capire sono quanti millilitri 400 millilitri ragazzi 400 lo vedete qua spero che si veda 400 millilitri di schiuma da barba e se ce la faccio vi faccio sapere quanto pesa dopo ora vi lascio all'ASMR non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspettate. Piaciuto. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel like e se non l'avete fatto ancora iscrivetevi e attivate la campanellina. Da Hashtag San Pratic è tutto. Ciao ciao.